Mister Epifani, partenza col botto. Vittoria, la prima giornata sul campo di una formazione attrezzata per fare bene, ha deciso alla fine un rigore di Loviso, ma tante sono state anche le occasioni create soprattutto nella ripresa. Sì, una vittoria importantissima in un campo molto molto difficile, questa partita la temevo molto perché sapevo che incontravo una squadra buona, il primo tempo è stato un po' di studio, un po' ritmi bassi, poi dal primo e secondo tempo ci siamo parlati, abbiamo alzato il vento, abbiamo cercato di fare quello che sappiamo fare e credo che fino al vantaggio abbiamo avuto l'occasione di fare il 2-0. Un gol ad un lato che secondo me era regolarissimo, abbiamo legittimato, poi abbiamo rischiato di pareggiarla su due errori grossolani nostri che abbiamo regalato la palla, che può succedere nella prima partita di campionato a un quarto della fine quando magari si stanco. Però è una vittoria importante perché veniamo da un pre-campionato dove abbiamo provato tante soluzioni, abbiamo provato tante cose e oggi la squadra si è fatta trovare pronta al primo appuntamento ed è sempre importante perché fa bene la testa, fa bene il morale e partire con la vittoria è sempre una cosa bella. Si sono fatti trovare pronti a testimonianza di una rosa comunque importante anche in coloro che sono usciti dalla panchina perché Gassamà e Pampano su tutti hanno fatto delle occasioni importanti, hanno costruito e creato occasioni importanti quando c'era stato il vantaggio. Ma anche Massetti e Pesce, sono entrati bene tutti e quattro, poi ho messo Colombatti alla fine nel tempo di recupero che sono anche contento per lui perché dopo l'operazione al crociato è rientrato in una partita ufficiale. Ma questo è lo spirito che abbiamo parlato sempre, specialmente in questa settimana, siamo tanti giocatori validi, la differenza lo fa pure chi entra dopo, quindi questo è un'arma in più che ci deve aiutare per tutto il campionato.